Partiamo dalle bombe carta, nonostante l'accurato filtraggio qualcosa è riuscito a passare? Sì, diciamo che è un neo in un servizio che oserei dire quasi perfetto, insomma, però obiettivamente dobbiamo migliorare su questo affronte, però appunto il ritrovamento delle bombe carta è anche una testimonianza del fatto che le cose le abbiamo fatte in un modo accurato. Sul punto dico che ovviamente la massa di persone che preme per entrare e malgrado i vari appelli alla fine poi si affollano agli ingressi in modo compatto tutti insieme, crea qualche difficoltà che dobbiamo superare. Dico che, non lo dico io, ma lo dicono tutti quelli che stanno qui da molto prima di me, che un servizio di filtraggio così non si era mai fatto, nel senso che è stato fatto veramente con un grande scrupolo, ma come ripeto evidentemente non è bastato e quindi proveremo ad analizzare la situazione e a migliorare. Ecco, invece parliamo di quello che ha funzionato perfettamente. Ma guardi, io dico che ha funzionato quasi tutto a partire dalle scelte appunto organizzative, quella di non far arrivare in centro i tifosi, ospiti, ma di farli arrivare direttamente allo stadio, far restire nell'area stadio una fanzone che ha consentito appunto di farli confluire quasi tutti su quel punto, quella di non far arrivare, quella la scelta di non far arrivare alla stazione un gruppo di tifosi del Dortmund segnalati come pericolosi, ma di andarli a prendere a Parma dove stavano viaggiando in Pullman e di scortarli fino a Reggio, quella di far tenere i tifosi del Borussia all'interno dell'impianto per più di mezz'ora dopo la fine della partita per consentire appunto il deflusso dei tifosi atalantini. Queste sono le cose principali che ci hanno consentito di gestire bene l'evento, naturalmente insieme a un'attività informativa che a partita da tempo, anche in collaborazione con la Polizia tedesca, e che allo stesso modo ha funzionato. Ecco, tre della Digo si sono rimasti feriti, ma questo durante un'operazione che ha consentito di tenere separate le tifoserie opposte. Beh, sì, sicuramente, ecco, prima ancora della criticità di cui ho parlato prima c'è stata questa, insomma, una cosa che dispiace sempre molto, tre colleghi, due della Digos di Reggio e uno della Digos di Bergamo, che pure appunto erano aggregati insieme a tantissimi altri qui, hanno riportato lesioni, fortunatamente non gravi, ma sicuramente hanno collaborato ad evitare conseguenze peggiori.